Protestano i dipendenti della sede UNEP di piazza Iacono in merito al progetto di spostare gli uffici in via Rochester, nel palazzo che sorge accanto al terminal degli autobus. Secondo quanto segnalato dal dirigente dell'ufficio Stefano Galiano e dai dipendenti, i locali di via Rochester non sono adatti a ospitare un ufficio come l'UNEP, che si occupa di notifiche, di atti ed esecuzione di provvedimenti su richieste di privati, in quanto ritenuti angusti e soprattutto posizionati lontano dal palazzo di giustizia e dalle poste centrali, oltre ad avere dei costi di gestione superiori rispetto a quelli dell'attuale sede. Una delle proposte è quella di trasferire gli uffici UNEP all'interno del palazzo di giustizia, non appena verrà completata la nuova ala che ospiterà la procura nissena e quindi il quarto piano del palazzaccio di via libertà resterà libero, con numerose stanze a disposizione. Sulla questione è intervenuto anche il sindacato UNSA Giustizia. Il segretario distrettuale Enzo Falsone ha spiegato di avere trasmesso le richieste dei lavoratori alla presidenza della Corte d'Appello, che a sua volta le ha girate al Ministero della Giustizia, ente quest'ultimo che ha di fatto stabilito il trasferimento degli uffici in via Rochester. Falsone ha sottolineato che negli ultimi anni il personale dell'UNEP ha affrontato diversi cambi di sede, aggiungendo che la loro casa naturale è il palazzo di giustizia, dove, sempre a dire del rappresentante sindacale, andrebbero riuniti anche altri uffici come il giudice di pace e la polizia giudiziaria, ospitati in sedi per cui viene pagato un affitto. Sulla questione abbiamo chiesto agli uffici della Corte d'Appello di sentire il Presidente Maria Grazia Vagliasindi, che risponderà nei prossimi giorni.